Negli scorsi video abbiamo visto video interessanti, abbiamo visto video rilassanti Li abbiamo visti anche più di una volta perché volevamo rilassarci anche abbastanza, bene E se prima avevamo visto dei video che ci calmavano, che ci rilassavano, che ci davano una buona sensazione Ebbene, oggi faremo tutto il contrario Signori, oggi guarderemo delle immagini talmente maledette, talmente inquietanti che Buona fortuna a vedere tutto quanto il video, vediamo chi ci riesce Oggi signori, non sono da solo, sono in compagnia del mio caro amico Valessio Buonasera popolo Signori, non perdiamo altro tempo e iniziamo Stavo per far cascare il microfono, fantastico Ma prima! Devo salutare le persone che il video scorso hanno commentato con la parola magica E quindi, le tre persone che ho scelto per il saluto di oggi sono Attenzione Onitrincopazzo, Mic55Gamer e Grim Grazie mille ragazzi per aver commentato Mi raccomando, se anche tu vuoi essere salutato, guarda il video fino alla fine senza schippare Perché la parola è in mezzo al video Buona fortuna a trovarla Signori, noi inizieremo da queste immagini No basta, basta ancora ragazzi, il video finisce qui, addio Beh, il mio amico Bear Grylls direbbe buone proteine Eh ho capito, non siamo Bear Grylls, non siamo su D-Max Cosa cazzo è questo? Ma, come c'è finito l'intento? Cosa è successo? Qual è stato il processo di questa cosa? Perché quella bambina è spaventata? Io credo che questa immagine si possa riassumere in un finale alternativo di Beastars stagione 2 Cosa cazzo ho appena visto? Ah beh sì, è un sistema di autodifesa questo È presente più Kyumuku di 7th Gen? Ah sì sì È più o meno questo qui, dovrebbe essere l'animale a cui ho preso spunto Mi sembrano un po' consumate queste scarpe fratello Probabilmente ha frenato mentre sto andando in moto Allora non per dire, ma che cazzo Sono perplesso In che senso? Questo è quello che succede dopo che vai da Domino Spitz Altri immagini perplesso Che cazzo sto vedendo? Ma quanto dà fastidio sta cosa? Ma fa male vederla, ma che cazzo No, ma le... Teoricamente lì in mezzo ci sono le vene Cioè quanto dà fastidio No, ma che... Ma che... Questa è una merda Questa è una merda No, questo... Cazzo, questo no Basta, basta, basta Io penso che questo sia molto più piacevole da vedere Di quello che abbiamo visto prima Dubito che quella cosa sia vera Penso che il mondo sarebbe molto con quella roba Australia, di nuovo meme sull'Australia incredibile The country will destroy you Ma voi non avete idea di quanto sono pacifici in Australia Anche gli animali Cioè se ti capita un ragno così in Australia È più facile che ti dica Ehi fratello, come va? Andiamo a berci qualcosa No, beh, fa le backrooms di... No, fermo, fermo Questo è interessante Questo è fatto bene Questo è anche fatto bene Non so se sia un Photoshop o sia... No, no, è un... No, che il colori è fatto in cui Però i costumi in basso sembrano anche reali Tipo da cosplay Però è fatta bene come animazione, cazzo Beh... No Che è sta roba? Mi credo il suscito male Allora, sono indeciso se dire Se è fatto effettivamente bene Oppure... C'è qualcosa da migliorare? Forse si vede che è fatto al computer Si vede che è fatto al computer Però l'idea è ottima Questo... No E fu così che non mi dava i piedenti Eeeh... Australia Ah, l'ho visto Ci ho fatto anche un meme su sta cosa Ci ho fatto anche un meme su questo video qua Nulla è peggio di un insetto grande A parte un insetto grande che vola Guardiamo altra roba Ah Tu sai che nei ristoranti cinesi, Vale Servono le zampe di galline di sossate? Questo lo so perché nel ristorante cinese dove lavoravo Era effettivamente un piatto di antipasto Eeeh... Ok, questa è probabilmente l'unica cosa non cursed Che ho trovato tra le ultime foto Te la facciamo fare durante il compleanno Sai che torta potresti effettivamente farmi per il compleanno? Da qua Ah beh Manda questo video a un tuo amico Mandalo due volte questo video Wow No Binks No Devi accettarlo Con il cazzo di fagioli si fa tutto, Dari No, non credo Questa foto è effettivamente la prova che No Io, ma che cazzo Ok, questo supera ogni limite L'uomo si è evoluto per così tanti anni Per fare questo tipo di immagini Allora, io sono esperto di anime e videogiochi Però giuro che questo non ho idea di che cazzo si falli Corrimente falla Anche le anime Look at the car Look at the arm Look at the... Look at the... Cosa? Non è divertente Trovo non divertente di cattivo gusto Un attimo, ma c'è seriamente gente che si lamenta su Pinterest Ma che cazzo? Ma gente, ma calmate Ma... no Cos'è? Che cazzo è quella roba? Palle bluetooth Ma sai che figata Guardate questo microfono E poi guardate me Signori, io sono il Davy Reminder Che vi ricorda che la parola del video di oggi è Termosifoni a gas Non fate domande Me l'ha consigliata Valessio Ciao Ok, questa roba di fagioli sta sfuggendo di mano Sono d'accordo con te Ok, stavamo cercando effettivamente qualcosa di davvero cursed Vabbè, è come dire È un buon modo per unire il sano al fast food di merda di McDonald's Sì, ma poi anche la mela verde quindi sa tipo da dentifricio bruttissimo Sì, è vero Pasta Cazzo di fagioli Fra... Comunismo